Storie di Serie A su Radio Serie A con RDS Un saluto da Alessandro Alciato, oggi è un piacere particolare vivere una nuova puntata di Storie di Serie A perché l'ospite è Massimo Moratti, grazie Presidente Grazie a voi, bellissimo Prima di tutto le chiedo se va bene chiamarla Presidente perché è un Presidente per sempre No, mi sono abituato, mi accetto, mi fa bene il senso Oggi chi è Massimo Moratti? Beh, sempre lo stesso, insomma, e con tutte le sue interessi di lavoro che sono naturalmente i principali della mia vita per quello che possa essere le mie attività non c'è più l'inter, ecco, non c'è più l'adrenalina, l'amore per una qualche cosa che sentivo sia come dovere ma soprattutto come passione però sono preso sinceramente da tutte le altre attività e dalla famiglia quindi naturalmente più si invecchia e più diventa importante il fatto di stare in famiglia Lei di fatto potrebbe riposarsi ma non sa riposarsi, l'abbiamo capito nel corso di tutta la sua vita da dove nasce questo moto perpetuo e irrefrenabile? Dal dovere che hai o che abbiamo di portare avanti certe cose o di trasmetterle o di cercare di aggiustarle senti sempre tirato dentro ma no, la fortuna di avere comunque in famiglia comunque dei figli e dei nipoti che sono talmente bravi che tutto quello che si fa ha un significato anche per il futuro Ho una curiosità, quanta gente fa arrabbiare ogni giorno penso, non so, a medici piuttosto che familiari che le dicono rallenti un po' e lei invece di rallentare va sempre in mille all'ora No, beh, no, ma io, insomma, faccio una vita abbastanza normale e anche se arrabbino i medici sempre questo è un fatto normale per chiunque credono soltanto per me Poco fa ha detto non c'è più l'Inter nella mia vita in realtà io immagino che l'Inter ci sia sempre comunque per tutto quello che lei ha fatto per l'Inter quanto le capita di pensare ogni giorno all'Inter? a quello che è stato, all'Inter di oggi, all'Inter in generale? Beh, certamente ci sono due modi diversi di vivere l'Inter quando eri presidente e adesso sono proprio opposti perché devo dire che quando sei responsabile di qualche cosa in questo caso l'Inter sei preso dal senso del dovere dalla passione, da tutto, insomma, non molli quando sei tifoso, sei tifoso cioè sei libero anche di dire, di arrabbiarti con la società con il giocatore e di vivere diversamente la cosa rapporti a casa molto meno pesantemente di quello che invece precedentemente succedeva e comunque l'Inter è parte importantissima della mia vita e della vita della nostra famiglia perché tutti si riferiscono, poi quando si riferiscono a noi pensano anche all'Inter quindi chiunque che parli assieme ci parla di argomento per cui sono venuti a parlare e poi dieci minuti dell'Inter sia per curiosità sia per cortesia perché pensano che sia qualche cosa che ci faccia un piacere Era più facile prima da tifoso e presidente o adesso da tifoso e basta? La domanda è intelligente Ogni tanto me ne viene uno Rami No, bravissimo Sa che sembra strano, vuol dire, ma era più facile da prima Prima naturalmente era naturale che mi sentivo in un ambito mio Adesso mi sento così come qualcuno che mi è capitata una meravigliosa avventura ma che però ha le spalle e quindi è meno facile giustificare tutto quello che possa essere la passione e tutto il resto E cosa sarebbe stata la sua vita senza l'Inter? Qualchino sa C'è sempre stata No, è sempre stata l'Inter Ma comunque Sa che poi sia importante o non importante? Non lo so Senzialmente è importante la squadra di calcio e il calcio Ma a noi al di là dell'importanza era il fatto che proprio io voleva a me questa squadra Il fatto che poi qua fosse tanto tifoso ce l'aveva trascinato tutti e che fosse stato un grandissimo, grandissimo presidente ci aveva confermato il fatto che fosse qualche cosa in parte nostro e quindi insomma è stato anche per me insomma abbastanza naturale E invece mai pensato a quanto avrebbe perso l'Inter senza la famiglia Moratti? No, beh, in questo non posso pensare perché non so l'alternativa a quella che sarebbe potuta essere e certamente magari veniva qualcuno che sta la vincere dalla mattina e dalla sera No, dal punto di vista umano dal punto di vista di rapporto, di affetto è stata qualche cosa di bellissimo insomma ma sia per me che credo sia stato bello anche per i tifosi perché in fondo hanno partecipato come se la cosa fosse loro insomma però che avrebbero potuto avere dei meglio potrebbe potarsi, potrebbe potarsi certamente Meglio? No, sinceramente Esiste un momento esatto in cui lei ha smesso di essere il figlio di Angelo Moratti ed è diventato Massimo Moratti Parlo della storia dell'Inter Ma senta A me questa quasi con mio padre proprio sinceramente perché devo vederla No, sono sempre stato figlio di mio padre ho sempre fatto tutto pensando anche tenendo presente quello che aveva fatto lui e con un affetto infinito nei suoi confronti quindi difficile rompere l'affetto Poi personalmente che si è cresciuto ho diventato... Il papà ci lasciava la responsabilità fino a quando eravamo piccoli insomma Lui ci aveva insegnato a vivere la nostra responsabilità e che la vita fosse tutto in prestito quindi se avesse condizione sempre di fare molta attenzione a quello che faceva Qual è il suo primo ricordo interista? Il primo ricordo interista è Lorenzi che veniva a casa nostra o in vacanza da noi a trovarci e mi ricordo quando aveva fatto il campionato del mondo in Svizzera è venuto a trovarmi in un collegio un piccolo collegio vicino a dove lui aveva giocato era stato così gentile e veniva a trovare in collegio e l'Inter ha la partita che papà ci portava tra le prime partite fu quel derby che vincemmo con la montagna dei gol 5 a 4 mi sembra... forse non so se è stata la prima o la più importante delle prime partite che avevo visto e l'idolo chi era? era Scoclon, Lorenzi, allora quando non avevamo ancora l'Inter poi man mano dice l'idolo, poi l'idolo è il suo man mano vivi sempre con l'idea che c'è in questo nuovo campione e bisogna sempre portare un campione nella scuola dei calci con quello di intrascine al pubblico e poi man mano quelli che abbiamo visto insomma la grande Inter che erano tutti dei fenomeni e tutti bravi il corso era certamente più quello che amavo di più e poi man mano tutti quelli che mi sono capitati nella mia vita capitati e cercati fortemente sì, cercati perché davano lustro alla squadra, alla società e perché sarebbero stati quelli che... sai, non conosci il futuro speri sempre di trovare qualcuno che ti faccia il cambio e che ti faccia vincere, stravincere Lei cosa cercava nei giocatori che prendeva? La classe soprattutto soprattutto la classe poi quando ho imparato che bisogna anche difendersi allora ho capito che la classe era importante ma senza Samuel dietro sarebbe stato un po' più di Samuel è arrivato Samuel e noi abbiamo aggiustato la squadra il rimpianto più grande? tantissimo, tantissimo, tantissimo è un meraviglio che la gente non sta arrabbi pensando a me perché sono tanti gli errori il rimpianto è molte volte non legato a un errore ma legato all'impossibilità di fare qualche cosa quindi tiriamo fuori la solita storia di Cantona che era il primo acquisto sinceramente sarebbe stato un cambio veloce di merce e dell'Inter spettacoloso anche però non mi è riuscito e poi dopo no, sono tanti Pirlo al Milan piuttosto che o chi da noi non è venuto fuori piuttosto che allenatori che magari potevano trattare meglio o peggio a seconda e quindi sono tanti gli impianti in una vita delle vinte però insomma nell'insieme tutto quello che si fa si fa sempre nel momento che lo fai lo fai sempre per il bene della società perché il pubblico poi possa avere un bene suo che possa essere valorizzato quindi non ti rendi conto insomma del grave errore che magari stai facendo poco fa ha detto mi stupisco che la gente non si sia arrabbiata con me impossibile perché lei è e sarà sempre il presidente del triplete come si vive come si convive con questa sorta di immortalità sportiva? No ma io non mi aspettavo che il triplete fosse così considerato importante ed è importante perché sinceramente non è facile non è facile vincere e lo dico perché a noi è capitato di farlo nell'ultima settimana non è adesso no quando abbiamo abbiamo vinto tutto nell'ultimo nell'ultimo mese nell'ultimo mese erano tre partite che ci ha fatto vincere tutto e solitamente queste cose magari uno dei tre magari diciamo il campionato potrebbe essere vinto con qualche un giorno di antici e invece no ci è capitato proprio di soffrire fino alla fine e si soffre fino alla fine quando vinci così tanto no è stata una cosa fantastica diciamo che è stato preparato bene perché precedentemente sia i campionati di Mourinho ma i campionati di Mazzini precedentemente la squadra che c'era erano forti fortissime quindi arrivai sempre lì e poi alla fine ce ne sono si è mai abituato a vedere Mourinho su un'altra panchina italiana sì me lo aspettavo però la Roma è adatto mi sembra che sia che sia adatto lui e che possa essere un'esperienza molto interessante per lui perché Roma ti dà proprio l'idea di una società che possa esprimere che abbia un grande potenziale tutto da esprimere e quindi lì è proprio è proprio è proprio lui è proprio Mourinho che ti inventa qualche cosa ogni giorno per cercare di dar valore al bene che ha adesso un altro protagonista del triplete sta facendo molto bene Tiago Motta a Bologna se non sarebbe mai aspettato così bravo no ma non sarebbe non aspettavo che facessero allenatore il ragazzo era intelligente è sempre stato intelligente è molto pratico molto pratico e queste le due cose insieme mi sono fatto sfida di diventare sono allenatore bravissimo bravissimo non solo vince ma gioca bene quanto è importante oggi il giocare bene perché non è che in giro ci siano tante squadre che riescono a farlo è importante perché che il pubblico vada adesso in numero tutti vanno allo stadio perché gli stadio sono pieni comunque i guai a farlo diventare noioso il calcio è la cosa più poi alla fine di colpo perde tutto questo favore e quindi giocare bene è importantissimo cioè lo vero scopo è che il calcio sia valorizzato insomma e è realizzato vuol dire giocare bene che la gente si diverta che le partite siano veloci questo per me è molto importante qual è l'allenatore che le piace di più? beh molto posso dire a parte il nostro che trova molto bravo tra l'inza che bravo ma guardando in giro la curiosità chi è il più pazzo dell'inter del triplete il giocatore più matto Michael perché Michael era tutto fisico tutta forza fisica ed era e si lamentava alla fine delle partite perché il pubblico non sosteneva la squadra per 90 minuti allora una volta si è lamentata con me gli ho detto senti guarda tu meno male che non sei vicino a me da un'altra partita perché quanto ti insulto io e allora capì che forse il pubblico dell'inter è speciale quella è la cosa più bella che le ha regalato l'inter e c'è qualcosa che le ha tolto invece in qualche modo tolto l'omazzo l'inter mi ha regalato l'università l'emozione guardi l'emozione e il fatto di la sorpresa di sapere come come poter un certo giocatore inserirsi dentro quello era qualche cosa che ti teneva in vita ed è un regalo che tu nella vita e di di avere sempre il domani interessante forse il difficile anche oggi è difendere queste emozioni perché c'è gente che si emoziona meno forse che prende in considerazione meno l'importanza delle emozioni adesso devo dire quello che trovo che sia naturale ma è un po' esagerato che si basa molto vero che in qualsiasi ragionamento dice ma questo è costato ma questo perché questo l'han pagato allora giusto dare un valore alle cose ma togli via quello che possa essere invece la parte meravigliosa del calcio che è invece il gesto sportivo e tutto viene dato questo qui fa un gesto sportivo di un bel livello ma perché è stato pagato 20 milioni di un altro di un bel livello sì ma è stato però pagato soltanto 500 mili io trovo che questo sia una specie di ambitudine sbagliata di affrontare di affrontare uno sport come quello del calcio anche un po' triste forse sbagliata e triste triste ormai è un modo di fare tutto tutta azienda e tutto ma va bene sì è vero ma io non l'ho mai considerato dentro un'azienda sbagliando ma l'ho sempre considerato un'attività fortunata da poter seguire e nel quale dovevo esprimere tutto il massimo della mia generosità se ce l'avesse avuta è anche vero che forse se lei l'avesse considerata un'azienda non sarebbero arrivate tutte le vittorie che sono arrivate chi lo sa però insomma uno lo fa poi non per scelto lo fa per camera c'è una cosa che non rifarebbe tornando indietro? ma sì ogni tanto mi viene in mente delle cose che mi rievo Bavaro Simoni quando l'ho mandato via dalla sera alla mattina quello certamente mi è spiacciuto poi ripeto lo so Roberto Carlos sarà più padre però è una vendita obbligata per il minaccio Pirlo perché non ho trovato gli allenatori che lo sostenessero però avrei dovuto forse difendere di più la posizione di Pirlo ma tutte cose non grandissime cose cioè cose diciamo non mi viene in mente magari che è qualcosa molto importante ma che non mi sono reso conto quindi vuol dire che non c'è non ha mai pensato di essere una persona troppo buona perché i giocatori lo raccontano sempre dicono noi avevamo un problema andavamo dal presidente il problema veniva risolto c'è una corrente di pensiero che dice questo è un difetto c'è una corrente di pensiero che dice invece è una grande cosa è un grandissimo pregio è un difetto certamente è un difetto certamente anche nei confronti di cui i giocatori questa cosa la prendevano ne approfittavano quindi però chi se ne frega perché perché non era certo quello che mi faceva soffrire no quello che era importante era che ci capissimo poi dopo che mi considerassero buono o troppo buono che non vuol dire tanto bene ma non me ne freghiamo niente e aveva un rapporto speciale però con i giocatori sì sì no no rapporto speciale con i giocatori non è che li vedessi spesso però c'era fiducia capivano che insomma contavo molto su di loro e questo è importante che la squadra lo senta e poi glielo dicevo quando a me capitava di incontrarlo cosa aveva visto R.Coba che non ha visto in altri a classe R.Coba ha fatto proprio calcistico al 100% calcistico cioè per quanto mio avere insieme tanta classe tanta potenza difficile difficilissimo se non avesse avuto la piglinzia sarebbe stato fantastico oppure no perché magari la piglinzia faceva parte di quel carattere ed erano insieme perché andava bene ma è stato un colpo di fulmine con R.Coba con R.Coba quando l'ho acquistato la persona che me l'ha venduto che era un famoso bene sudamericano mi disse allora questo giocatore senta guardi che lei una cosa ti puoi essere sicuro che la prima partita che farà farà cadere lo stadio e così è stato quindi da quel momento io ho detto beh questo è un predestinato però no giocare bene come era l'idea di avere in pacchino qualcuno che se lo metti dentro sai che sai che fa qualche cosa di diverso dagli altri qualche cosa di potente qualche cosa di bello da vedere è un altro che sarebbe stato così era Cano che per conto mio che era un grandissimo giocatore però sfortunatamente negli animatori dopo che aveva avuto quella cosa al cuore avevano un po' paura di Ronaldo c'è qualcosa che non è ancora stato detto no Ronaldo lo conosciamo tutti al cento per cento molto intelligente è un ragazzo molto intelligente molto sveglio nei riflessi spaventosamente pronti no era ecstizionale la specie sopra soprattutto devo dire che da noi non ha avuto fortuna nel senso che avrebbe dovuto vincere tanto invece ha vinto soltanto la Coppa UEFA ma perché si è fatto male subito dopo il primo è sempre è stata anche una persona divertente vero si era allegro era allegro una bella cosa era allegro però ripeto intelligente quindi sapeva essere adattare quando era il momento di essere serio era serio è mai venuta voglia di ricomprare l'Inter? no sinceramente sinceramente no tanto pensi fossi lì farei così insomma neanche tanto poi lo penso perché quelli di ci sono sono bravi e va bene ma ci sarebbe posto oggi per un Massimo Moratti cioè per la figura di un presidente di un proprietario diciamo solo non con un fondo alle spalle o non con insomma con una superpotenza alle spalle però presidente molto tifoso un presidente che ci tiene particolarmente quasi un malato della propria società no posso però per qualcuno che sia così che abbia questo tipo di atteggiamento c'è sempre bisogna vedere se ha la potenzialità economica per da dietro la squadra come l'Inter adesso che poi ci sono tante squadre ma la squadra come l'Inter che ha delle esigenze di un certo tipo in questo momento insomma è difficile poter seguire come famiglia sentendosi responsabile al 100% rimane una ferita aperta la cessione in qualche modo no 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 tutt'altro che ferita no 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 tutt'altro che ferita è stato un passaggio di responsabilità a un'altra persona dopo tanti anni e mi sembrava che fosse poi il momento giusto della squadra di oggi cosa pensa fortissima le piace fortissima io la vedo fortissima in tutti i settori davanti di un metacampo un po' in porta un portiere che è arrivato che si pensava che quello che è andato via fosse il più bravo del mondo e questo lì chissà che cosa questo lì è bravissimo è seria difesa ottima abbiamo tanti giocatori tutti buoni gli assolutamente acquistati bene l'importante non fare errori poi con la storia dei cambi dei cinque cambi si può si provi a graduare la fatica bene insomma io credo che non ci sia bisogno di fare troppi turn over nelle partite perché c'è la possibilità di far giocare il tempo giusto a tutti i giocatori c'è un giocatore che guarda con particolare attenzione con particolare piacere beh qui c'entrava è bravo Lautaro deve essere sincero carattere proprio carattere del centramatire interessa fa dei gol che sono bellissimi e poi c'è questo Turam che è interessante perché è nuovo è una sorpresa sono tanti bravi il centrocampo ha fatto un tutto di giocatori seri e bravissimo Simone Inzaghi bravo le piace devo dire bravissimo bravissimo poi tiene low profile costantemente e con questo la squadra gioca bene gioca benissimo sa tenere il gruppo insomma io non lo conosco personalmente però è proprio bravo poi è migliorato che è questo una dote non da poco pensavano Lautaro Martinez ha vinto da poco il mondiale giocando in squadra con Leo Messi ma è stata una leggenda il fatto che voi siate stati vicini a Messi non è vero era vero è vero perché a me era capitato di vedere in una colazione a casa c'è la televisione c'era una partita dell'under 19 argentina e c'era sto ragazzo che visse la partita da solo bravissimo bravissimo che aveva classe ma mi aveva impressionato per il carattere che aveva era coraggioso e allora mi ricordo che qui come di solito c'era come capita adesso oggi c'erano dei giornalisti che mi chiedevano cosa non pensasse se volevo comprare Ronaldinho piuttosto io gli dico no guarda il fenomeno è questo che ho visto adesso sto ragazzino Messi lo seppe mi mise in contatto con lui però insomma era stato allevato dal Barcellona curato dal Barcellona insomma mi sembrava una cattiveria a fare tutto di nascosto e poi perché loro usarono questa cosa per fare carriera a Barcellona però da allora mi mandò per tanti anni la maglietta tutti gli anni ah sì forse è stato troppo corretto è sempre stato correttissimo no che è un pregio cioè l'ultima maglia che le ha mandato ah beh qualche anno fa insomma non mi ricordo se lo immaginava già giocare nell'Inter sì perché Messi dove lo mettevi stava cioè perfetto poteva far Messi più dieci ma poi quando l'ho visto io proprio era bambino ma si vedeva a volo guardando il futuro forse immediato forse no quanto è vicina la seconda stella per l'Inter se parli di Scudetto ne parli tranquillamente se parli che lo Scudetto lo dice la seconda stella no la scaramazzia subito interviene speriamo sia molto vicina ma mettiamola così cosa rappresenterebbe la seconda stella è bellissima una continuità fantastica una continuità di campionati vinti bene fra le altre cose un'ultima un'ultima cosa nelle sue giornate così intense trova ancora il modo la voglia di sognare beh i guai a non farlo passando gli anni naturalmente siamo meno sogni a disposizione però il passato ti aiuta moltissimo a colorare le cose che vedi insomma cioè sembrava di sognare il calcio è una delle cose che ti fa che ti distrae di più da questo punto di vista perché l'idea di sognare la prossima partita sì quello lo fa è sempre è quello di pensare a me fanno questa azione fanno questo gol fatto così tu l'hanno passata l'autaro l'autaro diventa beh quello ha un tifoso e c'è un sogno più grande che ci può ci vuole raccontare o che fa no penso tante le sue però è bello è bello l'idea di avere una vita che non è soltanto fatta di cose pratiche ma anche di cose difficili insomma da realizzare grazie 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 mille presidente grazie molto direttivo storie storie di serie storie di serie su radio serie a con rds di cose di fare di fare di fare di fare di fare di fare Grazie.